Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Hai 12 anni, hai organizzato un pigiama party con le amiche e sei euforica all'idea di trascorrere la serata tra chiacchiere e confidenze. Magari accompagnate da un film romantico, una scorta di dolcetti e delle cuscinate divertenti. Ma le tue risate colme di spensieratezza verranno interrotte da un intruso che sconvolgerà la tua esistenza. E tu non sai nemmeno chi sia. Parliamo di lui. Richard Allen Davis nasce il 2 giugno 1954 a San Francisco e cresce nella cittadina di La Honda, un angolo di natura incontaminato immerso nelle montagne di Santa Cruz, sempre in California. I genitori di Richard si chiamano Robert ed Evelyn, è il loro terzo figlio, infatti ha due fratelli maggiori e due sorelle minori. Viene descritto come un ragazzo timido e tranquillo, ma anche simpatico e premuroso. Tuttavia, la vita di Richard si svolge in un ambiente familiare nocivo, perché entrambi i suoi genitori sono alcolizzati e considerano l'alcol una priorità rispetto ai loro figli. I due coniugi sono inclini alle polemiche e alle liti violente. E soprattutto il marito, Robert, a essere aggressivo nei confronti della moglie Evelyn. Ma non solo, lui picchia anche i suoi figli. Robert viene descritto come un uomo distaccato, freddo, che risulta perennemente arrabbiato. Ma, se possibile, pare che Evelyn sia ancora più scontrosa con i suoi bambini. È una donna severa, chiusa, se non insensibile e anaffettiva. Non permette mai ai suoi figli di essere dolci con lei, di mostrarle il loro bene e, a sua volta, lei non li abbraccia mai. Un giorno, quando Richard ha appena tre anni, Evelyn scopre che sta giocando con una scatola di fiammiferi. È pericoloso, quindi pensa immediatamente di dargli una barbara lezione. Afferra la mano del piccolo e gliela appoggia sul fornello acceso. Non solo. La trattiene lì, fino a quando, sulla pelle di Richard, iniziano a formarsi delle vesciche. Questa diventa la punizione preferita di sua madre. Infatti la infliggerà spesso, ad esempio quando più avanti nel tempo. Sorprenderà i suoi figli a fumare. I vicini si accorgono che Evelyn maltratta i figli. Eppure non allertano le autorità competenti. Sono perplessi dalla reazione dei bambini, i quali non tentano mai di scappare o anche solo di ribellarsi. Rimangono fermi a sopportare il dolore. Sono talmente abituati a queste punizioni crudeli che riescono addirittura a trattenersi dall'urlare o dal piangere. Lasciano la mano sulla fiamma viva, ma non c'è alcuna emozione che traspare dal loro viso. Come se fossero rassegnati a quel destino di supplizi. Poi quando Richard compie 11 anni, i suoi genitori divorziano e gli viene chiesto con chi dei due voglia continuare a vivere. Sia lui che i fratelli scelgono il padre che, come detto, non è un buon genitore quanto la madre. Robert picchia ugualmente i figli, ma loro sopportano meno volentieri Evelyn e vogliono allontanarsi da lei il prima possibile. Dunque da questo momento in poi Evelyn scompare dalla vita dei suoi figli, ma certamente non ne soffre. Anzi, è sollevata dall'essersi liberata di loro. Dopo il divorzio, Robert compra un'altra casa alla Honda, ma la situazione per i figli non migliora molto. Il padre non è mai a casa per motivi di lavoro, quindi persino i bambini più piccoli devono badare a se stessi, perché lui li lascia da soli. Si può affermare, tra l'altro, che Robert nemmeno conosca i suoi figli. Una volta partecipa a un incontro scolastico serale tra i genitori, e quando gli chiedono che classe stia frequentando Richard, sbaglia di ben due anni. Quando è presente a casa, Robert si dimostra instabile, soffre di allucinazioni, spesso afferra la pistola, si recchia in cortile e spara in aria, sostenendo di vedere delle cose che volano e scendono dal cielo. Altrettanto allarmante che continua a maltrattare e picchiare i suoi figli, soprattutto Richard. In un'occasione suo padre l'ha percosso così duramente da rompergli la mascella. La famiglia cambia casa in continuazione, e questo contribuisce all'assenza della stabilità nel nucleo. Poi, quando Richard ha 14 anni, si verifica una tragedia. Una delle sue sorelle minori, una bimba di soli 10 anni, viene a mancare a causa di una malattia ignota. È a questo punto che Evelyn, la madre, riappare, partecipa al funerale, ma ignora tutti i suoi figli durante la funzione. Insomma, Richard fin dalla giovanità combatte con oscuri demoni interiori, si incolpa per il divorzio dei suoi genitori ed è costretta ad assumersi tante responsabilità per essere solo un ragazzino. Deve cucinare, pulire casa e prendersi cura dei suoi fratelli. Sfortunatamente, crescendo senza una vera figura di riferimento, commette diversi atti crudeli. Ho notato negli ultimi video che desiderate essere avvisati in caso ci siano maltrattamenti sugli animali. Quindi, se per voi è troppo, potete saltare a questo minutaggio che vi scrivo in questo momento nel video. Richard, già da piccolo, tornava e uccideva gli animali. Vagava per il quartiere alla ricerca di quanti più gatti possibili su cui versare la benzina per poi incendiarli. Uccideva pure i cani randaggi e li scuoiava. In un'occasione ha trovato una volpe moribonda già infestata dai vermi. Richard l'ha uccisa, scuoiata e poi ha portato la carcassa a scuola per fare uno scherzo a una ragazza che gli piaceva. Ha infilato il cadavere della volpe nel suo armadietto. La ragazza, nell'aprirlo distrattamente per recuperare dei libri, si è ritrovata la mano invasa dai vermi. Comprensibilmente è rimasta traumatizzata da questa esperienza. Ora che Richard ha 14 anni, è solito andare in giro per il quartiere a intimidire gli altri ragazzini che incontra per strada. Infatti, esce sempre armato di coltello. La gente lo evita perché sa che per lui ogni momento è buono per scatenare una rissa. All'età di 15 anni Richard si intruffola nelle case altrui per rubare e suo padre arriva addirittura a chiamare egli stesso la polizia perché non riesce a gestirlo. Robert dice ai detective che il figlio dovrebbe essere preso in custodia perché è incurabile. Successivamente Richard viene ammonito in un tribunale per minorenni, ma questo non lo spaventa al punto da fermarlo. Richard è ossessionato dal piacere che prova quando si introduce nelle case della gente e invade la privacy altrui. Quindi continua a farlo, ma non è così scaltro da non lasciare tracce, dunque viene beccato di nuovo. Torna al cospetto del tribunale dei minorenni all'età dei 17 anni per il furto di una motocicletta. Questa volta il giudice prospetta due opzioni a Richard. O andrà al riformatorio, oppure dovrà arruolarsi nell'esercito. Il ragazzo sceglie la seconda alternativa e viene reclutato in Germania. Tuttavia, anche nel vecchio continente Richard crea problemi. Continua a rubare, non si presenta quando dovrebbe essere in servizio e viene anche sorpreso a fare uso di sostanze. Dopo 13 mesi viene espulso dall'esercito per cattiva condotta, ottenendo delle conseguenze legali piuttosto leggere, considerata l'entità dei suoi crimini, con rilasci anticipati dal carcere. Dunque, Richard ha 18 anni, è di nuovo a casa. In questo periodo sta insieme a una ragazza di nome Marlene Voris, che ha frequentato la sua stessa scuola superiore. La notte del 13 ottobre 1973, Marlene sta tenendo una festa a casa sua, perché sta per partire. Ha deciso di arruolarsi in marina ed è molto emozionata, perché ha questo desiderio da sempre. Numerosi invitati sono lì per celebrare il suo traguardo insieme a lei. Si divertono fino a che il party non giunge al termine. Dunque, Richard e gli altri suoi amici vanno via. Ma una volta uscito dalla casa, il ragazzo dice che deve tornare indietro perché ha dimenticato qualcosa. Gli amici rimangono ad aspettarlo fuori dall'abitazione, ma all'improvviso sentono un colpo di pistola che proviene dall'interno della casa. I ragazzi chiamano la polizia e gli agenti di pattuglia, una volta sul posto, trovano la giovane Marlene Voris senza vita, morta a causa di una ferita d'arma da fuoco. Accanto a lei, individuano sette biglietti di addio. Il gruppo di amici è convinto che Richard, dopo essere rientrato a casa, abbia puntato la pistola alla testa di Marlene, costringendola a scrivere questi biglietti d'addio al fine di simulare un suicidio per poi ammazzarla. I ragazzi sono certi che Marlene non si sarebbe mai tolta la vita. Era nel fiore degli anni e felicissima di arruolarsi in marina. Forse il suo successo ha suscitato in Richard dei sentimenti contrastanti, visto che lei stava per entrare in un sistema in cui lui aveva recentemente fallito. Tuttavia, Richard riferisce alla polizia che Marlene si è uccisa davanti a lui. E la polizia gli crede, dichiara che la morte di Marlene è stata un suicidio. Dopo questo accadimento, Richard appare traumatizzato e usa la situazione come un pretesto per intraprendere un'incredibile ondata dei crimini. Oltre alla scusa di patire la fame perché non riesce a trovare lavoro a causa delle macchie sulla sua fedina penale. A una settimana dalla morte di Marlene, irrompe in una casa. Dentro non c'è nessuno, allora Richard beve tutto l'alcol presente, ruba alcune cose e distrugge di tutto. In un periodo di tempo molto breve, commette una grande quantità di furti con scasso, 20 per la precisione. Viene arrestato per uno di questi furti e condannato a 6 mesi di reclusione, dopodiché viene rilasciato. È il 1974 e Richard rimane in libertà solo per 5 settimane. Infatti viene arrestato nuovamente per furto con scasso. Si scopre pure che in queste 5 settimane trascorse fuori dalla prigione, Richard è stato coinvolto in una banda criminale che vende sostanze. A questo punto il ragazzo ha 20 anni e viene condannato a una penna detentiva che prevede un minimo di 5 mesi e un massimo di 15 anni. Viene rilasciato dopo il 24 mesi. Viene rilasciato dopo 24 mesi. È il 1976. Adesso Richard ha 22 anni e la situazione peggiora ancora. Per ora agli occhi della legge ha commesso soltanto dei furti, che sicuramente danneggiano le persone che li subiscono, ma non sono paragonabili a dei crimini violenti. Ebbene, Richard è pronto a non farsi mancare neanche questi, macchiandosi di un reato violento a sfondo intimo. Il 24 settembre 1976, Frances May, una segretaria legale di 26 anni, è appena scesa dal treno per tornare a casa dopo il lavoro. Mentre si avvicina alla propria macchina, un uomo le corre dietro armato di coltello. Quello è Richard che la costringe a salire a bordo. Lui si accomoda sul sedile del guidatore e la colpisce in testa. Frances piange assalito dal panico, mentre Richard mette in moto la macchina. Dopo aver guidato per 20 minuti, si ferma in una zona isolata e le dice «Sai cosa voglio che tu faccia?». Le punta il coltello alla gola, le afferra la testa e la spinge verso il cavallo dei suoi pantaloni. Frances però è una ragazza tenace e coraggiosa, non ha alcuna intenzione di assecondare il suo rapitore. Riesce ad afferrare la lama del coltello con una mano, mentre con l'altra si precipita ad aprire la portiera della macchina. Frances scappa dall'auto urlando, la sua mano sta grondando di sangue, ma fortunatamente riesce ad attirare l'attenzione di un passante alla guida di un'altra macchina. Incredibilmente, l'uomo che Frances ferma è proprio un agente di polizia fuori servizio, il quale rintraccia e arresta Richard, che nel frattempo era scappato. Tra l'altro, in questo periodo, Richard era pure in regime di libertà condizionale. Viene quindi rimandato dietro alle sbarre e valutato da uno psichiatra. Il detenuto gli dice di aver rapito la segretaria perché sentiva la voce di una donna nella sua testa, ed era convinto che fosse proprio la voce di Frances che gli diceva «Mi chiedo cosa si provi a essere aggredita intimamente». Ecco perché lui l'avrebbe assalita. Richard ribadisce che sente delle voci anche durante il periodo di detenzione e un giorno finge di impiccarsi. In realtà questa mossa fa parte di un suo piano, perché vuole essere trasferito in un ospedale psichiatrico e, da lì, riuscire più facilmente a scappare. È assurdo pensare che i suoi progetti si concretizzano davvero. Infatti, viene spostato in un istituto di igiene mentale da cui è capace di evadere. E mentre è in fuga, commette un'altra serie di crimini. Durante la notte in cui è libero, Richard fa irruzione nella casa di una donna di 32 anni, un'infermiera di nome Marjorie Mitchell, che vive a Napa. Marjorie sta dormendo profondamente quando lui le si avvicina e la colpisce alla testa con un attizzatoio da cammino. Lei si sveglia e comprensibilmente inizia a urlare, mentre il sangue della ferita le cola sul viso. Allora Richard si spaventa e fugge. Marjorie avrà bisogno di 30 punti di sutura per la lesione riportata alla testa. Richard, parlando con gli psichiatri dell'accaduto, quando tornerà in carcere, dirà che aveva sentito un'altra voce nella testa. Stavolta quella di una donna che voleva scoprire cosa si provava a essere picchiata con un attizzatoio. Richard affermerà che era stato piacevole aggredire Marjorie in quel modo, perché gli aveva permesso di allentare un po' la tensione. Comunque il giorno successivo all'assalto a Marjorie, Richard si introduce con la forza in un rifugio per animali, dove ruba dei soldi e un fucile. Tre giorni dopo entra coattivamente nell'auto di una donna di nome Hazel Frost, anche lei di Napa. Le punta il collo il fucile da caccia rubato e la obbliga a guidare. Hazel è terrorizzata, guida per circa mezz'ora con quel fucile puntato al collo. Poi Richard le chiede di fermarsi in una stazione di servizio. Il rapitore recupera del nastro adesivo, intenzionato a legarle in mani e piedi, ma fortunatamente Hazel riesce a divincolarsi. Apre la portiera dell'auto e scende, afferrando la pistola che custodisce sotto il sedile. Hazel spara cinque colpi contro Richard. Lui però riesce a scappare. Così Hazel risale in macchina e si allontana. Secondo voi, perché Richard ha aggredito Hazel? La sua storia non cambia. Sentiva nella sua testa la voce di una donna che chiedeva chissà cosa si prova a essere rapita e aggredita. Richard era convinto che Hazel fosse single semplicemente perché lei si trovava da sola e, secondo la sua mente contorta, visto che Hazel non aveva un fidanzato, di certo non le sarebbe dispiaciuto quell'agguato. Dopodiché Richard irrompe in un'altra abitazione che appartiene a una donna di nome Josephine Krieger, di la Honda. Anche lei non è a casa quando lui entra nella sua dimora. Richard fruga tra le sue cose, le ruba dei gioielli e aspetta che torni perché vuole legarla. Il solo pensiero di catturarla e immobilizzarla lo elettrizza. Tuttavia, quando Josephine rientra, non è sola, bensì in compagna di un gruppo di amici. Allora Richard viene assalito dal panico. Abbandona il piano che tanto lo eccitava, scappa dalla porta sul retro e si nasconde tra alcuni cespugli. Ciò nonostante, Josephine intuisce subito che qualcuno si è introdotto in casa sua, quindi chiama la polizia. I detective, ispezionando i dintorni, trovano Richard nascosto tra i cespugli. Il latitante viene nuovamente arrestato, esaminato dal tribunale e condannato da 1 a 25 anni per il rapimento di Francis, più ulteriori due anni per l'aggressione a Marjorie e a Hazel, più una pena tra i 6 e i 10 anni per il furto con scasso nella casa di Josephine. Non ci sono dubbi. Richard è un delinquente recidivo, un evaso che ha commesso reati ancora più violenti durante la fuga, quindi ha dimostrato che non si fermerà. Di conseguenza, non dovrebbe essergli concessa la libertà condizionale anticipata, no? Beh, purtroppo non è quello che accade davvero, perché Richard trascorre soltanto 6 anni in prigione, poi viene rilasciato e sottoposto alla libertà condizionale. Richard ora ha 28 anni e trova presto una compagna, Susan Edwards, detta Sue, che ha due figli e pure un marito. I due però sono anime affini e diventano complici anche negli affari criminali. Vagano per la California, si spostano a Washington e infine nell'Oregon. Vendono sostanze e rapinano ristoranti e negozi al dettaglio, sotto la minaccia delle armi. La maggior parte delle volte è Richard a occuparsi della parte esecutiva delle rapine, mentre Susan gli fa d'autista. Poi un giorno decidono di fare un passo avanti, in quanto Susan ha da tempo degli aspri contrasti con una donna di nome Salina Varich, che anni prima era stata insieme a sua sorella Nancy. Susan inizia a ricattare Selina, ma quest'ultima non le risponde. La ignora. Allora Richard e Susan le fanno visita a casa, armate di pistola. Richard la minaccia, le punta la pistola addosso e le dice che ucciderà lei, suo padre, sua figlia e chiunque le sia vicino. Avrete capito che questo uomo è ferocemente violento. Infatti le strappa il telefono agganciato a una parete e lo scaraventa a terra. Le spacca la faccia con la pistola, dunque Selina perde molto sangue ed è comprensibilmente terrorizzata. La coppia la costringe ad andare a farsi una doccia per pulire il sangue dal viso e a recarsi in banca a prelevare 6.000 dollari. Appena Richard e Susan mettono le mani sui soldi, abbandonano Selina sul ciglio della strada. La donna perde ancora sangue dalla testa e avrà bisogno di otto punti di sutura per la ferita che le è stata inferta. I due continuano a darsi ai furti, rappilano pure una banca, rubano 4.000 dollari e agiranno così per ben sei mesi, giuscendo a farla franca. Arriviamo al 21 marzo 1985 quando Richard e Susan vengono fermati perché il fanale posteriore del loro camioncino è bruciato. Gli agenti che intendevano multarli, effettuando i dovuti controlli, si rendono conto che c'è un mandato di arresto per entrambi, quindi lo eseguono. La giustizia condanna Richard a 16 anni di carcere, mentre Susan ha soli sei mesi perché lei non ha una lunga fedina penale come il compagno. Susan, una volta scontata a questa pena di sei mesi, esce dalla prigione e si risposa con un uomo di nome Mike Mrava. Riesce a eludere la legge perché, come detto, è già sposata. Tuttavia, dopo soli tre mesi di matrimonio, Mike viene trovato senza vita. È stato assassinato. Si scopre che Susan, oltre ad avere due mariti e quella relazione con Richard, ha pure un altro fidanzato e l'aveva convinto a uccidere Mike per incassare i soldi dell'eredità. Il fidanzato di Susan viene arrestato e incarcerato mentre lei se la cava di nuovo ed eredita effettivamente 300.000 dollari. Grazie a questi soldi sporché di sangue, Susan compra una macchina nuova con cui va a trovare Richard in prigione. I due si rifidanzano ma la storia non dura molto. Presto Susan si stufa e lascia Richard. A quanto pare lui ha il cuore spezzato povera Stella. Quindi, decide di vendicarsi. La polizia intanto ha scoperto che Susan non aveva mai divorziato legalmente dal primo marito e il procuratore distrettuale si prepara a processarla per bigamia potendo contare sul sopporto di Richard che si offre volontario per testimoniare contro di lei. Susan viene così condannata a 6 anni di carcere. Arriviamo al 1993. Richard ha 39 anni e ne sono trascorsi 8 da quando è stato condannato a 16 anni di carcere. A questo punto viene rilasciata a causa del sovraffollamento della prigione. Ha svolto delle prestazioni durante la detenzione ed è stato definito come un eccellente lavoratore della lamiera con un elevato potenziale. A luglio del 1993 Richard soggiorna in una casa di accoglienza e sembra che stia mettendo in carreggiata la propria vita. Trova lavoro come lattoniere rispetta ogni incontro con la gente della libertà vigilata e risulta pulito da ogni sostanza. Tutto procede bene finché tre mesi dopo il rilascio Richard ottiene il permesso dalla gente della libertà vigilata di fare visita alla madre che non lo ha mai considerato e che vive a Petaluma appena fuori San Francisco. Fortunatamente in questa città abita anche qualcuno che Richard non avrebbe mai dovuto incontrare la dodicenne Polly Klaas. Per alcuni giorni Richard viene visto bighellonare per le strade e i parchi di Petaluma guarda i bambini che giocano e forse ha vista Polly. Ammesso che sia così ecco che prende una terribile decisione Polly sarà la sua prossima vittima. Polly Klaas è nata il 3 gennaio 1981. I suoi genitori si chiamano Mark e Eve e hanno divorziato quando la bambina aveva due anni ma hanno continuato ad andare d'accordo. Eve si è risposata e ha avuto un'altra bambina dal secondo marito. La coppia cambia spesso casa ciò nonostante Polly è sempre seguita dal papà Mark che si trasferisce anche lui per poter restare vicino alla figlia. Dunque anche se Polly vive con la mamma è molto legata al padre e trascorre insieme a lui la maggior parte dei fine settimana. Polly è una ragazzina riservata e timida ma con le persone che conosce bene risulta molto ma molto più aperta. Ad esempio è molto legata ai suoi nonni. Ha uno spiccato senso dell'umorismo è sarcastic e fa sempre ridere la sua famiglia e i suoi amici ama travestirsi dei personaggi che più le piacciono e sogna di diventare un'attrice da grande. Inoltre adora leggere libri e fumetti e mangiare gelati e popcorn. È una bambina felice ha 12 anni quindi l'adolescenza si avvicina ma c'è una cosa che Polly teme tantissimo ovvero il buio. Questa paura l'ha perseguita fin da quando era molto piccola e non riesce a superarla. Polly si addormenta soltanto se nella stanza rimane accesa almeno una piccola luce ma anche un'altra paura collegata alla prima quella dell'uomo nero teme che una notte questo misterioso individuo entrerà in casa sua e la rapirà. Polly racconta spesso questo suo timore ai genitori i quali cercano ogni volta di confortarla di rassicurarla dicendole che non deve preoccuparsi perché loro saranno sempre lì a proteggerla. Siamo quindi al primo ottobre del 1993 quando Polly ormai vive soltanto con la mamma e la sorella minore perché Eve si è separata anche dal secondo marito. Quella sera la bambina sta dando un pigiama party ha invitato le sue due migliori amiche Kate McLean e Jillian Pelham. Queste tre ragazzine sono molto unite frequentano tutta la banda musicale della scuola e suonano il clarinetto. Si stanno divertendo un mondo al pigiama party giocano a travestirsi progettano cosa fare ad Halloween e si truccano a vicenda. La mamma di Polly intanto è abbattuta per via di un'emicrania e chiede alle bambine di stare tranquille dato che lei sta andando a dormire. Sono circa le 10 di sera Eve assume delle medicine e si mette a letto. Non si è resa conto che un uomo inquietante ha postato all'esterno della sua abitazione e che sbircia oltre le finestre. Le tre ragazzine si trovano nel salotto di casa sono alle prese con dei giochi da tavolo. Poi circa 30 minuti dopo Polly va a prendere dei sacchi a pelo per le sue due amiche. Sala al piano di sopra apre la porta della sua camera e si ritrova davanti un uomo. Lo sconosciuto è Richard ma lei è convinta che sia l'uomo nero l'origine della sua paura più grande. Richard stringe un coltello in mano e le dice non urlare o ti taglio la gola. Intanto le altre due bambine Kate e Jillian raggiungono Polly al piano di sopra e si imbattono in questa scena preoccupante. Ma sono convinte che si tratti di uno scherzo quest'uomo è sicuramente un amico di famiglia. Poi però guardano la loro amica e vedono che nei suoi occhi si riflette il terrore più puro. Quindi capiscono di essere finite in un incubo fin troppo reale. Richard chiede a Polly chi delle tre viva in quella casa e la ragazzina gli risponde io abito qui. Richard le dice che non le farà del male vuole solo dei soldi. Polly allora apre il suo porta gioielli e tira fuori 50 dollari ma Richard non sembra importare. La ragazzina lo implora gli chiede di non fare del male a sua madre o a sua sorella. La piccola vuole proteggere le altre persone presenti in casa. Richard però la ignora piuttosto ordina alle tre ragazzine di sdraiarsi a faccia in giù sul pavimento non devono guardarlo. Loro eseguono immediatamente i suoi ordini ora non possono osservarlo ma percepiscono che sta frugando in giro. Richard sposta e raccoglie vari oggetti recupera un panno di seta un cavo elettrico da una console nintendo e una cinghia di cuoio da una borsa di Polly. Usa questi oggetti per legare le mani alle ragazzine dietro alla schiena e ricorre al panno di seta e ad altri pezzi di stoffa per imbavagliarle. Poi toglie le federe dai cuscini e le infila nelle loro teste infine afferra Polly e dice alle amichette di non muoversi. Devono contare fino a mille solo a quel punto Polly tornerà. Dopodiché Richard esce dalla casa portando Polly via con sé. Richard obbliga la ragazzina terrorizzata a entrare nella sua macchina e mette in moto. Intanto Kate e Gillian non ascoltano il rapitore. Appena lui lascia la stanza tentano con tutte le loro forze di liberarsi. Una volta che ci riescono entrano di corsa nella camera da letto di Eve per svegliarla. Le raccontano quello che è successo così la mamma di Polly si precipita a chiamare il 911. La polizia arriva rapidamente poi circa un'ora dopo da Santa Rosa a circa 25 miglia di distanza dalla casa di Polly parte un'altra chiamata al 911. A telefonare è una donna di nome Dana Jaff la quale riferisce all'operatore che c'è uno strano uomo che si aggira nella sua proprietà. Sembra che si sia schiantato con la macchina. Ebbene sì quest'uomo è proprio Richard. Una pattuglia raggiunge il posto e trova Richard ancora in macchina bloccato in un fosso. La polizia gli chiede come si è finito lì e gli ricorda che quella è una proprietà privata. Richard dice che stava facendo un giro turistico ma siccome è quasi mezzanotte la polizia dubita che stesse davvero visitando la zona. Richard a questo punto recupera una birra e inizia a bere ma la polizia gli ordina di smetterla e di allontanarsi il prima possibile giustamente. Richard risponde che non può perché la sua macchina è bloccata. La polizia allora chiede a Dana se vuole che arrestino Richard ma lei risponde che non è necessario basta che se ne vada dalla sua proprietà. Dunque gli agenti aiutano Richard a estrarre la macchina fuori dal fosso controllano nel loro database se vi sia un mandato di arresto emesso per lui ma non trovano nulla non hanno idea del suo background e di quanti reati abbia commesso non sanno nemmeno che devono stare allerta perché non troppo lontano un uomo misterioso ha rapito una ragazzina di 12 anni quindi lo lasciano andare via non sappiamo dove fosse Polly in quel momento la polizia non l'ha vista dunque forse era chiusa nel bagagliaio dell'auto oppure Richard l'aveva fatta nascondere in un cespuglio lì vicino in ogni caso se questi ufficiali fossero stati a conoscenza di ciò che stava accadendo a Petaluma forse Polly avrebbe avuto un avvenire diverso nel frattempo le ricerche di Polly continuano con il supporto dell'FBI più preparata nel gestire i casi di rapimento gli agenti esaminano ogni angolo della camera da letto di Polly in cerca di prove ma non trovano nulla di significativo individuano soltanto un'impronta parziale di un palmo di una mano abbondano però le testimonianze oculari su uno strano uomo avvistato nei dintorni mentre bighellonava in zona alcuni giorni prima di rapire Polly anche Kate e Gillian le amiche di Polly presenti al Pijama Party contribuiscono alla creazione dell'identikit del rapitore tanti cittadini si offrono spontaneamente di collaborare alle ricerche di Polly distribuendo ovunque i volantini con i dati sulla sua scomparsa i giorni passano ma purtroppo della dodicenne ancora non c'è nessuna traccia ormai il caso ha fatto notizia a livello nazionale i genitori di Polly sono devastati e lanciano vari appelli al pubblico chiedendo a chiunque abbia informazioni utili di farsi avanti scrivono anche una lettera che viene pubblicata su un giornale in cui supplicano il rapitore di liberare la loro figlia la notizia si diffonde a macchia d'olio oppure su internet un evento insolito considerando che siamo soltanto nel 1993 ciò che maggiormente allarma e sconcerta il grande pubblico nella storia di Polly è il fatto che la ragazzina è stata rapita a casa sua il posto in cui avrebbe dovuto essere maggiormente al sicuro l'immagine di Polly viene postata da tanti utenti su diverse bachiche online anticipando quello che oggi accade sui social media infatti questa vicenda è in nota anche per essere stata il primo caso in assoluto diffuso tramite internet all'epoca il volto di Polly è stato visto più di quello di qualsiasi altro bambino rapito persino un'attrice famosa viene coinvolta nelle ricerche e vi sto parlando di Winona Ryder lei aveva frequentato la stessa scuola media di Polly dato che era cresciuta in quella zona è addolorata dalla notizia dell'orribile rapimento della bambina e così offre una ricompensa di 200.000 dollari per colui che riporterà a casa sana e salva Polly il suo coinvolgimento rende il caso ancora più conosciuto il pubblico viene sensibilizzato ulteriormente ma Polly ancora purtroppo non si trova passano altre settimane e la polizia non riesce a fare progressi riceve un sacco di suggerimenti che si rivelano infondati per cui ha battuto piste indirizzate verso vicoli ciechi in un'occasione un adolescente ha persino telefonato a Mark il padre di Polly fingendo di essere lei poi il 19 ottobre 18 giorni dopo il rapimento la polizia ferma Richard per guida in stato di ebrezza l'uomo viene portato alla stazione di polizia interrogato per 5 ore ma incredibilmente nessuno nota che il suo aspetto richiama l'identikit del rapitore di Polly eppure quell'identikit è affisso ovunque per le strade e soprattutto è presente in quella stazione di polizia siccome nessuno se ne accorge Richard viene lasciato andare via passano quindi altre settimane ma i media non perdono interesse per il caso continuano a dargli ampio risalto intanto il padre di Polly Mark fonda un'organizzazione no profit chiamata Polly Class Foundation e molte persone da tutto il mondo elargiscono delle donazioni per sostenere le ricerche di Polly si tiene un importante concerto di beneficenza per sensibilizzare ancora l'opinione pubblica dove si esibiscono tantissimi artisti tra cui comici come Robin Williams l'FBI continua a ricevere indizi e suggerimenti ma ormai sono passati in vano due mesi dalla scomparsa di Polly poi finalmente il 28 novembre 1993 arriva una chiamata rilevante al 911 è sempre Dana al telefono la donna che aveva contattato la polizia quando Richard si era schiantato nella sua proprietà la sua comunicazione dà una svolta alle indagini perché lei afferma di avere trovato alcuni oggetti nella sua tenuta capace di destarle una certa preoccupazione nello specifico si è imbattuta in una felpa di colore rosso scuro dei collant per bambine un panno di seta l'involucro di un preservativo e poi anche un profilattico usato del nastro adesivo e una bottiglia di birra Dana ora che il caso di Polly Class è diventato noto dice ai detective che quegli oggetti potrebbero essere appartenuti alla ragazzina e al suo rapitore ricorda di quello strano uomo che era entrato nella sua proprietà proprio la notte in cui la dodicenne è sparita la polizia dopo alcune indagini arriva alla conclusione che quell'uomo Richard Allen Davis ha un consistente passato al criminale era persino stato portato alla stazione di polizia di recente per altre circostanze ovvero per la guida in stato di ebrezza i detective guardano la sua foto e solo adesso si accorgono che assomiglia l'identikit del rapitore di Polly finalmente sanno chi cercare riescono a rintracciare Richard che si è rifugiato a casa di sua sorella e lo prendono immediatamente in custodia a questo punto trovano anche la corrispondenza con l'impronta parziale del palmo della mano trovata sulla scena del crimine inoltre le migliori amiche di Polly Kate e Jillian riconoscono Richard gli agenti ne sono certi hanno identificato il rapitore di Polly ma ora vogliono sapere dove si trova la bambina e se è ancora viva Richard quindi racconta la sua versione dei fatti spiega che si trovava a Petaluma per fare visita a sua madre anche se non era proprio riuscito a trovarla ma aveva comunque deciso di rimanere in zona per qualche giorno era andato in giro nei parchi si era seduto su varie panchine aveva bevuto e poi aveva comprato un po' di sostanza leggera mentre la consumava però si era accorto che qualcosa non andava dovevano averla mescolata con altre sostanze impure perché lui aveva cominciato a vedere tutto sfocato fin dall'inizio Richard afferma di riuscire a ricordare vagamente che in serata era entrato a casa di Polly non rammenta di averla mai incontrato prima né di averla rapita ma sa soltanto che a un certo punto si era ritrovato in macchina stava guidando e Polly inspiegabilmente era accanto a lui sempre secondo la sua versione Richard era molto confuso sull'accaduto non aveva idea del perché Polly fosse lì con lui così aveva preso la decisione di continuare a guidare fino a che non era finito nella proprietà privata di Dana facendo un incidente aveva quindi deciso di portare Polly fuori dalla macchina per nasconderla nei cespuglie lì vicino era poi risalito a bordo della sua automobile e poco dopo era arrivata la polizia Richard era riuscito a non destare i sospetti gli agenti se ne erano andati e circa 30 minuti dopo quando era ormai sicuro di essere rimasto solo Richard era tornato nel punto in cui aveva lasciato Polly in quel momento si era reso conto che non poteva lasciarlo andare la bambina conosceva la sua faccia l'avrebbe denunciato e lui sarebbe stato catturato e rispedito in prigione e Richard non voleva che questo accadesse quindi aveva solo un'opzione doveva uccidere la piccola aveva usato un pezzo di stoffa per strangolarla ecco come Polly Klaas aveva perso la vita Richard aveva poi trascinato il suo corpo in una zona boscosa e lo aveva coperto velocemente con fogli rami terra e assi di legno poi era tornato alla macchina e si era allontanato dal luogo del delitto quindi stando alla storia di Richard Polly era ancora viva quando gli agenti sono intervenuti nella proprietà di Dana ed è tragico se questo fosse vero perché significa che la bambina poteva essere salvata la polizia è scettica riguardo ai fatti ricostruiti da Richard non crede che lui non ricordi i motivi dietro i suoi spostamenti l'uomo viene esortato a condurre gli agenti sul luogo dove aveva lasciato il corpo di Polly e loro constatano che il cadavere è gravemente decomposto del resto è rimasto lì per due mesi gli animali avevano iniziato a mangiare i resti della piccola e ormai priva di pelle non si distinguono più la regione addominale e la maggior parte dei suoi muscoli le zone in cui i tessuti cutanei sono ancora presenti si sono decomposte fino a mumificarsi ma ci sono ancora degli indumenti sul suo corpo la bianchiera intima la camicetta e la gonnellina sono tirate su e le gambe della povera ragazzina sono state divaricate viene eseguita l'autopsia ma il corpo della dodicenne è talmente decomposto che non c'è modo di stabilire la causa del decesso e gli agenti sono orientati a credere a Richard che dice di averla strangolata sempre durante l'autopsia del cadavere emergono delle tracce del seme di Richard e data la posizione delle gambe di Polly al momento del ritrovamento la polizia chiede all'assassino se l'avesse aggredita intimamente lui nega sorpreso che il suo seme sia finito sul corpo di Polly tuttavia poi afferma beh almeno non è stato trovato dentro di lei in ogni caso dopo la scoperta dei resti di Polly Richard Allen Davis viene accusato di omicidio di primo grado e rinchiuso in prigione in attesa del processo che si tiene quasi tre anni dopo nell'estate del 1996 nonostante il tempo trascorso è ancora vivo l'interesse del pubblico per questo caso al punto che viene presa la precauzione di dare luogo al processo lontano da Petaluma perché i cittadini odiano profondamente Richard Richard arriva in tribunale con le accuse di omicidio di primo grado rapimento e un tentativo di atto sceno su una bambina non si dispone di prove sufficienti per accusarlo di violenza intima purtroppo la difesa di Richard non tenta di negare tali accuse ma sostiene che l'imputato fosse molto confuso che non sapeva cosa stesse facendo a causa dei traumi subiti durante l'infanzia l'accusa ribatte che molte persone vivono un'infanzia traumatica eppure non tutti diventano degli assassini questa è una scelta che Richard ha fatto consapevolmente la giuria concorda con l'accusa quindi dichiara Richard colpievole di omicidio di primo grado in occasione dell'udienza di condanna alla famiglia di Polly viene chiesto se voglia rilasciare una dichiarazione allora Mark il padre della giovanissima vittima dice che la sua vita è ormai distrutta che non riesce a dormire né a concentrarsi sul lavoro che gli manca la sua bambina con tutto il cuore purtroppo però viene permesso anche a Richard di parlare così quest'uomo cosa fa? si alza in piedi si gira verso Mark e dice la ragione principale per cui ho aggredito intimamente tua figlia quella notte dipende da ciò che lei mi ha detto ovvero non fare quello che fa mio padre dopo questa grave e infamante affermazione in aula tutti sussultano Mark si solleva e urla Richard brucia all'inferno poi viene scortato fuori dall'aula infine l'imputato si rivolge alle telecamere e alza il dito medio questo comportamento di Richard secondo me rivela molto su di lui non ha alcun rimorso per quello che ha fatto non si sente in colpa e smentisce anche la sua versione sull'essere confuso infatti se davvero fosse stato inconsapevole delle azioni compiute ora si vergognerebbe si pentirebbe e non deriderebbe la famiglia della vittima il giudice prima di pronunciare la sentenza dice che l'insinuazione rivolta al padre di Polly gli ha reso la decisione molto più facile Richard Allen Davis viene condannato a morte dopo il verificarsi di questo caso Winona Ryder che aveva recitato nel film Piccole Donne nel 1994 un anno dopo il rapimento di Polly ha dedicato la sua interpretazione a Polly Class perché Piccole Donne era anche il libro preferito della bambina in California viene approvata una legge in cui si stabilisce che in caso di una terza condanna l'autore del reato deve ricevere una pena più lunga avendo dimostrato di essere un criminale recidivo il caso di Polly ha realmente influenzato il governo californiano nell'introdurre questo cambiamento legislativo perché se tale disposizione fosse stata già in vigore in passato Richard Allen Davis non avrebbe avuto modo di uccidere Polly in quanto sarebbe stato ancora dietro le sbarre aveva commesso così tanti reati ma gli sono state concesse delle pene brevi ed è stato sempre rilasciato molto tempo prima della fine della sua condanna Richard Allen Davis è ancora vivo si trova nel braccio della morte nella prigione statale di San Quentin gli hanno diagnosticato il disturbo evitante di personalità il disturbo antisociale di personalità e il disturbo schizzoide di personalità il disturbo evitante di personalità spinge il soggetto che ne è affetto ad arginare situazioni sociali o interazioni che comportano il rischio di un rifiuto la critica o l'umiliazione il disturbo antisociale di personalità è caratterizzato da un modello pervasivo di disprezzo per le regole e le leggi infine il disturbo schizzoide di personalità implica un atteggiamento di distacco e disinteresse generale nelle relazioni sociali e una gamma limitata di emozioni nei rapporti interpersonali in pratica Richard fatica a provare qualsiasi tipo di emozione tuttavia questo disturbo non rende automaticamente una persona un assassino Richard è un criminale violento aveva rapito alcune donne in passato e compiuto un omicidio perché è spinto da un movente intimo e avrebbe dovuto passare la vita in prigione voglio terminare questo video ricordando la vittima del caso di oggi Polly Class è stata descritta come una ragazzina dolce amorevole e premurosa come detto aveva uno spiccato senso dell'umorismo le piaceva far ridere le persone intorno a lei e i suoi genitori la amavano immensamente adorava la musica il teatro e sognava di diventare un'attrice da grande era molto legata alla sua famiglia infatti nel momento del pericolo quando Richard è entrato in casa sua gli ha chiesto soltanto di non fare del male ai suoi cari la vita le è stata strappata ferocemente e troppo presto aveva soltanto 12 anni arriviamo quindi alla fine di questo video di questo caso e vi vado a parlare delle mie conclusioni questi casi mi rendono molto triste e scommetto che per voi è lo stesso Polly dovrebbe essere ancora qui su questa terra avrebbe dovuto vivere la sua vita a realizzare i suoi sogni inoltre è davvero straziante che il peggior incubo di Polly la sua più grande paura si siano manifestati temeva terribilmente l'uomo nero e Richard è davvero apparso nella notte e l'ha portata via per sempre quello che ha vissuto questa bambina nelle sue ultime ore di vita è troppo pesante anche solo da immaginare oggi la Polly Class Foundation creata da suo padre Mark è ancora attiva per promuovere la sicurezza dei bambini pensate che ha aiutato oltre 100.000 famiglie con i casi di bambini scomparsi fortunatamente nel 97% di questi casi i piccoli sono stati riportati a casa sani e salvi questo purtroppo non consente di salvare anche Polly ma rende la sua memoria sempre viva ovviamente sono curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni questo caso mi ha colpito molto perché è terribile essere rapite a casa propria sei lì che stai facendo un pigiama party sei felice con le tue amiche poi di colpo piomba in casa un uomo sconosciuto e ti rapisce è una cosa devastante davvero fatemi quindi sapere che cosa ne pensate di questo caso qui sotto nei commenti sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate che emozioni vi ha suscitato e insomma sarò felice di leggere tutte le vostre opinioni e le vostre idee io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendervi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti